C'è chi è indeciso tra il mare e la montagna, chi va a trovare la suocera in campagna? Io certamente quest'estate penso in Cina Gallarate, rimentico lo stress. Dopo un anno di lavoro duro, ma perché mai non andare sul sicuro? Ho pensato a Gallarate, o che passerò l'estate e starò come un pasciara. Gallarate, se la provi non la lasci più, mai più. Questa estate, sorseggiando birra del Carrefour, Carrefour. C'è chi è indeciso tra il mare e la montagna, c'è chi noleggia una macchina in Sardegna. Io ti consiglio quest'estate pensi in Cina Gallarate e dimentichi lo stress. Tu penserai che non sia molto emozionante, ma ti assicuro che non mi manca niente. E quest'estate a Gallarate un'asciura di tradate ma ha donato già il suo cuore. Gallarate, due stelle stanza contro il mare. Sai tu, l'altra estate, se penso a quanto ho speso a Malibu, mai più. C'è chi impazzisce tra i miei riccioni, mi fa la fila sotto il suo leone. Ma santo Dio c'è Gallarate, il suo letto con le ocche è un tramonto da ammirare. Tu sei indeciso tra Libra e la Romina, ma mano a mano che Luglio si avvicina. Io ti consiglio di far presto a prenotare dove il posto Gallarate è qui per te. Vai, 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 ma c'è altro sono sei tromboni. Io ti consiglio di far presto a prenotare dove il posto Gallarate è qui per te. Io ti consiglio di far presto a prenotare dove il posto Gallarate è qui per te. Ebbene sì, è tutto vero in collaborazione con l'assessorato alla cultura. Di immaginato.